Buongiorno a tutti, sono il dottor Lorenzo Beretta, direttore della Scleroderma Unit del Policlinico di Milano. Sono qui oggi con la signora Ilaria Galetti, rappresentante del GILS, gruppo italiano per la lotta alla sclerodermia, per presentare un'importante iniziativa denominata ScleroNet, che speriamo vada ad aiutare e a migliorare la cura e l'assistenza di tutti i malati affetti da sclerosi sistemica. Per presentare nel dettaglio la rilevanza di questa iniziativa passo la parola alla mia co-conduttrice. Buongiorno a tutti, rappresento oggi il gruppo italiano lotta alla sclerodermia o sclerosi sistemica, una patologia altamente invalidante, cronica, autoimmune e che colpisce diversi organi del corpo. La nostra associazione, il GILS, dopo aver individuato degli ospedali in grado di prendersi cura del paziente nella sua totalità, ha individuato all'interno di questi delle eccellenze, ovvero sia delle eccellenze all'interno delle eccellenze. La cosa rivoluzionaria è che i medici si sono seduti intorno ad un tavolo durante il loro tempo libero, hanno messo a disposizione gli uni degli altri le loro competenze e hanno capito che non ha senso essere gelosi dei propri pazienti e tenerse l'incarico in toto, ma qualora il paziente dovesse aver bisogno dell'esperienza, dell'expertise di un collega, si rivolgeranno direttamente a questo collega e mensilmente faranno dei briefing, degli incontri, nei quali discuteranno tutte le necessità che il paziente ha. Quindi in realtà il GILS non ha fatto altro che mettere in atto i percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali della Regione Lombardia, alla redazione dei quali il GILS stesso ha contribuito. Di conseguenza a partire dal nuovo anno, questi medici ogni mese parleranno dei loro pazienti e una particolarità è che all'interno di questo progetto ci sarà sempre un paziente rappresentante dell'associazione stessa, proprio perché tutte le necessità siano reali, perché a volte il medico ha più attenzione per l'aspetto clinico, mentre le necessità dei malati spesso non coincidono, benché il risultato naturalmente sia il medesimo, ma si può arrivare attraverso percorsi differenti. Vorrei ricordare che il prossimo mese, a metà marzo, ci sarà il convegno nazionale durante il quale si parlerà di tutti i risultati delle ricerche che la nostra associazione nel corso dei vent'anni della sua esistenza ha finanziato e vedremo quindi quelli che sono i frutti che sono stati raccolti. Passo la parola al dottor Beretta che illustrerà dal punto di vista medico il progetto ScleroNet. Grazie molte, io sono molto contento di aver fatto parte di questa iniziativa e di far parte di questa iniziativa che coinvolge noi come ScleroDerma Unit del Policlinico, l'ospedale di Legnano, l'istituto Humanitas e l'ospedale di Niguarda. Ognuno di noi porterà, come già detto, delle eccellenze, le proprie conoscenze, il proprio expertise per migliorare la cura del paziente, cosicché qualora il paziente, il malato non abbia la possibilità di accedere a un particolare servizio perché non vicino direttamente a casa o perché non immediatamente raggiungibile per questioni organizzative, possa rivolgersi laddove questo servizio sia il miglior possibile per il malato in modo da implementare il più possibile la cura di questa malattia che rimane una malattia molto difficile da diagnosticare, da seguire, ma soprattutto una malattia dove bisogna porre un'adeguata attenzione affinché le conseguenze e la disabilità che essa può creare vengano minimizzate. In particolare sappiamo che riuscire ad interagire con gli specialisti evita perdite di tempo, evita ulteriori aggravamenti della patologia e fa sì che vi sia sempre più margine di intervento e che vi possa effettivamente essere una prevenzione sul campo e una migliore cura. Con ciò vi auguro buona giornata e spero che tutti possiate seguire le iniziative del GILS e seguire il nostro lavoro e qualora foste malati interessati appunto a rivolgervi all'Associazione dei Malati o a tutti noi membri di questa iniziativa.